Vai! Via! La comunità montana Vittorio Esposito, la sindaca di Monte San Giacomo e presidente del GAL Angela D'Alto, i sindaci di Sala Consilina e Pertosa, rispettivamente Domenico Cartolano e Domenico Barba, insieme ad altre cariche politiche. Dopo il taglio del nastro si è proseguiti lungo il percorso dedicato alla degustazione dei piatti a base delle castagne autoctone e banchetti con commercianti ed agricoltori. La festa delle castagne si concluderà questa sera e il sindaco e la presidente della Proloco, Simona Setaro, invitano tutti a parteciparvi. C'è sempre un grande successo di persone, quindi mi auguro che anche da questa sera ci sarà molta presenza di persone che verranno a degustare i prodotti tipici della castagna, perché c'è un primo piatto con cavatelli e con farina di castagna, poi ci saranno una rista di maiale, mi sembra, sempre con una salsina a base di castagne e tante altre cose. Quest'anno nella Sagra ci sarà anche l'associazione della fibrosicistica per quanto riguarda la ricerca, siccome noi anche quest'estate abbiamo donato una festa per beneficenza e abbiamo donato l'associazione di polla, quindi riteniamo di voler continuare su questa strada perché penso che contribuire alla ricerca è un altro di quello che una comunità si deve preoccupare perché la ricerca è importante per cercare di sconviggere queste malattie. Questa sera apriremo la ventunesima edizione della festa della castagna, è già arrivato il concerto bandistico città di Sassano che in occasione del centenario aprirà questa manifestazione. Stiamo aspettando anche i consiglieri regionali e ci sono tutti i sindaci del Vallo di Diano. Alle 19.30 faremo il taglio del nastro e si aprirà il percorso enogastronomico. La novità di quest'anno è il tagliere di salumi e formaggi e questo tagliere lo curerà l'associazione Juvenis di San Rufo, il forum dei giovani. Quest'anno gli stand sono in gestione e sono stati dati in gestione ai soci della Proloco. Vi aspettiamo questa sera, domani, anche a pranzo e giorno 2. Ci sentiamo a casa, quindi San Rufo rientra all'interno della strategia delle aree interne della comunità montana Vallo di Diano, e uno dei comuni dell'entroterra che maggiormente in questo periodo, attraverso questa manifestazione, riesce ad attrarre molti visitatori e non solo. Quindi è un bel momento di riscoperta delle tradizioni, un bel momento di riscoperta dell'identità dei nostri paesi e siamo qua come provincia proprio per testimoniare questa vicinanza e questo legame con tutti i comuni della nostra provincia.